sono stefano pratico lo spinning un'arte che mi regala fortissime indimenticabili emozioni una tecnica non semplice che però dà la possibilità sia di evolversi come pescatore sia come persona è un'infinita battaglia una battaglia col predatore con noi stessi dove però alla fine i veri vincitori siamo entrambi la pesca ha un potere magico quello di collegare l'uomo alla natura tutte le catture fatte rimangono per sempre un ricordo indelebile della nostra vita io pesco soprattutto in luoghi vergine questo perché mi dà la possibilità di affinare tutte quelle capacità di attenzione verso l'ambiente che mi circonda cercando di captare tutti quei piccoli segnali che possono aiutarmi nel fare la cattura dalla mia piccola esperienza ho intuito che nello spinning i dettagli fanno la differenza e un'esca che può sembrare non catturante lanciata e recuperata in un determinato modo possono fare la differenza questo è il bello dello spinning in un'escazione in un'escazione in un'escazione in un'escazione ogni cattura che noi facciamo è unica e indimenticabile in un'escazione la cosa bella ma questo vale per tutte le tecniche che ognuno vuole praticare è che c'è sempre da imparare e soprattutto andate a pescare la pesca è vita